È conservato nella biblioteca statale di Cremona un cimeglio più unico che raro, la prima copia della maschera funebre di Giacomo Leopardi. La storia legata all'oggetto e al suo arrivo a Cremona intreccia la vita del marchese Sigismondo alla Ponzone con quella della sorella del poeta. Si tratta della maschera funeraria di Giacomo Leopardi presa sul letto di morte proprio, di cui noi possediamo questa che abbiamo visto e che è una copia, una copia molto molto vicina all'originale perché quando il nostro marchese Sigismondo alla Ponzone andò a visitare la sorella di Giacomo Leopardi a Recanati, ebbe occasione di vedere questa maschera e in via del tutto eccezionale Paolina Leopardi diede il permesso di fare una copia, come mai qui a Cremona, proprio grazie alla marchese che la donò alla città di Cremona. Si tratta di una reliquia dallo straordinario valore storico-culturale che la biblioteca conserva con cura e orgoglio all'interno della sua struttura. Una tradizione diretta da Recanati e dalla città di Leopardi, da Leopardi stesso, fino alla nostra biblioteca perché è proprio la biblioteca perché è anche una presenza, come dire, fisica, se vogliamo, di un così grande poeta e pensatore e scrittore come è stato Giacomo Leopardi, ecco, in una biblioteca che possiede ovviamente tanti suoi scritti, e è un po' veramente una sorta di sigillo a cui noi siamo anche piuttosto affezionati. Dalla maschera traspare una profonda beatitudine sul volto del poeta, quella che certamente non l'ha accompagnato in vita, ma che parrebbe essergli sopraggiunta in punto di morte. La cosa che più colpisce, o che almeno noi ha sempre colpito, è il grande senso di serenità che appare da questo, che è sicuramente un momento, beh, perché è rimasto tristissimo, ma comunque un momento forte e ecco, non compare nulla del tormento, delle difficoltà che tutti conosciamo. È un'immagine che dà un senso di pace, di serenità.